Allora bentornati in questo canale, oggi arriviamo dritti al punto. Come vedete a schermo quello di cui voglio andare a parlare oggi è di una farm che reputo molto interessante all'interno del sito Reaper Farm, che sarebbe questo qua, reaper.farm, ve lo lascio in descrizione. Allora la cosa interessante di questa farm è che il rendimento in questo momento è di circa il 60%. Andiamola a vedere direttamente adesso quant'è, così ci facciamo un'idea. È su Chain Phantom, che in questo momento sta spingendo veramente tanto, mentre l'andiamo a cercare, ne approfitto per, eccola qua intanto, rendimento 64% annuale, ovvero 0,13% al giorno, ovvero l'1% a settimana. Allora prima di iniziare con un tutorial che vada dritto al punto su questa farm, voglio parlare innanzitutto di come funziona e dei rischi, ma prima voglio fare una brevissima premessa. Fino ad ora sul canale, compreso questo video, ho sempre solo portato progetti in cui io stesso ho investito. Infatti io mi reputo un investitore, non uno YouTuber, e quindi per il momento non ho mai fatto titoli clickbait, quindi non voglio andare a parlare di quello su cui non investo. Però ho visto che anche sul gruppo Telegram spesso vengono fatte delle domande su dei progetti che sono più degen, quindi diciamo molto più rischiosi, ma con un potenziale rendimento altissimo. Allora io premetto che non sono un grandissimo fan di questi progetti, perché per la maggior parte delle volte si vendono sogni. Infatti ci dobbiamo sempre ricordare che non esistono pasti gratis, e se un protocollo ti promette il 1000, il 2000, il 4000, il 12000%, ci sta sempre un rischio associato. Non esistono pasti gratis a Wall Street, sostanzialmente questo detto ce lo dobbiamo ficcare bene in testa. Quindi non sono un fan di questi protocolli, però vedo che effettivamente ci sta comunque tanta richiesta e tanto interesse. Quindi se pensi che sia utile che comunque vada ad analizzare dei progetti anche nel caso in cui io stesso non ci investissi, magari scrivimelo nei commenti così nei prossimi video vado comunque ad analizzare delle farm, delle pool oppure delle criptoalute su cui io non investo, ma su cui magari comunque posso fare un'analisi. Perché comunque sia io ovviamente me le analizzo, non è che le scarto così a priori. Detto questo, andiamo a vedere questa farm. Allora è molto interessante perché il 64%, premetto che è stabile da una decina di giorni due settimane, quindi per il momento comunque tanto di cappello ed è ottima. Però ha dei rischi associati. Come vediamo qua, scritto in maniera brutale, veramente antiestetica, i rischi sostanziali sono due, il DPEG e il rischio piattaforma. Allora, per quale motivo il rischio DPEG? Il rischio DPEG perché come vediamo per andare a farmare questa pool ci serve l'LP token che andiamo a prendere direttamente sulla pool di Curve. Questa pool di Curve però, se clicchiamo qui ce l'apre, è una pool costituita da USDC, DAI e CUSD. Allora, USDC e DAI direi che ormai hanno abbastanza storico, sono abbastanza solide, anzi direi che in ordine sono la seconda e la terza più solide. Andiamo anche a vedere su CoinMarketCap. Però sostanzialmente sono le due più grosse. Vediamo però per sicurezza, perché mi è venuto adesso il dubbio mentre lo dicevo. Andiamo qua su Categorie, vediamo su Stable, perché non so se UST ha superato DAI in realtà. Vediamo se lo troviamo. Stable Coin. Ah no, sono la seconda e la quinta. Vabbè, parliamo comunque di tantissima capitalizzazione, 45 miliardi, 10 miliardi. Quindi sul rischio DEPEG delle prime due, insomma direi che stiamo abbastanza sicuri, mentre il rischio reale è sul DEPEG di CUSD. Allora, che cos'è CUSD? Sarebbe Creditum Revenant, eccolo qua. CUSD sarebbe una Stable Coin sovracollateralizzata, ovvero per ogni CUSD che esiste in circolazione, esiste dietro, quindi è Backup, si dice, esiste dietro un collaterale che è maggiore di un dollaro. Però senza che ci fidiamo né di quello che dicono loro né di quello che dico io, andiamo a vedere quanto è sovracollateralizzata, quant'è il rischio associato a questa criptovaluta. Quindi andiamo sul sito, che sarebbe di Creditum, infatti è una criptovaluta emessa da Creditum, e andando su CUSD Market, vediamo che in questo momento in circolazione ci sono 18 milioni, 469 mila, 576, ho finito il fiato, CUSD. E dietro questi CUSD che sono stati mintati, che sono stati creati, ci sono dietro, Backup, ci sono 22 milioni di dollari. In questi due 22 milioni di dollari, in che cosa sono? In dollari in bond argentini, tedeschi, andiamola a vedere. Dietro questi 22 milioni ci sono questi asset, quindi Phantom, USDC a sua volta, DAI, Ether, Bitcoin e di nuovo delle forme tokenizzate di DAI e Phantom. Quindi diciamo che sono comunque asset solidi, direi tutti quanti, forse Phantom è quello un po' più particolare, però comunque sia si parla di una criptovaluta molto importante. Ora, queste ultime tre le vediamo più tardi, perché sono per fare una strategia più complessa, ma molto più redditizia. Le vediamo a fine video, perché comunque sia non è facile attuarla. Andiamo invece direttamente nella parte pratica, quindi andare a capire come bisogna fare. Abbiamo detto che per entrare in questa pool, che sarebbe questa qua, bisogna avere questo LP token. Quindi clicchiamo sulla pool, chiudiamo la schermata di prima, per avere l'LP token bisogna depositare su Curve, ovviamente c'è in Phantom, va bene anche a dirlo, bisogna depositare una di queste tre cripto, CUSD, DAI o USDC. Allora, l'ipotesi CUSD è quella un po' più complessa e quindi la vediamo dopo. Andiamo a vedere l'ipotesi DAI e USDC. Quindi dobbiamo andare a depositare o DAI oppure USDC su Curve. Mi raccomando, ho detto O, perché su Curve non è necessario depositarle bilanciate. Possiamo anche, non so, abbiamo 1000 DAI, possiamo anche andare a depositare direttamente tutti e 1000 DAI insieme, senza USDC. Quindi come facciamo? Innanzitutto bisogna avere su Metamask, ad esempio, dei Phantom. In questo momento, ad esempio, io su Metamask, su questo account, ho due Phantom. Quindi direi che il punto di partenza è questo qui. Ho due Phantom e 5,84 DAI. Ovviamente, se voi non aveste i Phantom su Metamask, potremmo mandarli qui, ad esempio, passando da Binance oppure da Wobby, prelevando su rete Phantom e quindi ci ritroveremo allo stesso punto di partenza. Ovviamente poi ci stanno tantissime persone che possono partire da punti di partenza differenti. Non so, mi viene in mente qualcuno che ha i UST su Anchor oppure UST, AUST su Loop Finance. Insomma, ovviamente i punti di partenza sono infiniti. Prendiamo il caso base, abbiamo i Phantom su Metamask e dobbiamo riuscire ad avere DAI. Come facciamo? Andiamo, ad esempio, su un DEX che opera sulla Phantom Chain, come potrebbe essere, ad esempio, Spooky Swap. Dico Spooky Swap perché è uno dei più liquidi. Quindi andiamo a prendere la coppia di scambio, eccola qua, Phantom, e andiamo a cercare DAI. Eccolo qui, ci permette anche di aggiungerlo direttamente a Metamask con il più. Io di solito non consiglio mai di fare questo perché potenzialmente potremmo anche andare a prendere dei contratti malevoli. Quindi io tendenzialmente mi vado a prendere il contratto fuori, direttamente su un motore di ricerca oppure sul sito di Phantom oppure su CoinMarketCap. Anche se comunque bisogna stare attenti perché anche sul CoinMarketCap non siamo mai sicuri. Di recente c'è stato il problema con Shiba Inu. E vabbè, Shiba Inu è una Shirtcoin e sono contento che abbia avuto quel problema. No, a parte gli scherzi. Insomma, Shiba Inu ha avuto quel problema, nel senso che sul CoinMarketCap erano stati listati dei contratti sbagliati. Quindi mi raccomando, sempre massima attenzione. Soprattutto se iniziamo a movimentare delle grosse somme. Ora, detto questo, ho lo scambio Phantom Die. Attenzione solamente a non andargli a mettere tutti quanti, perché poi i Phantom ovviamente ci servono per approvare le varie pur, le varie farm e tutto quanto. Quindi non utilizziamo tutti i Phantom. Quindi ad esempio, non so, metto un Phantom. Tanto io qualche Die, giusto a scopo d'esempio, ce l'ho già, dovrei avere tipo 5 Die, se non ricordo male. Ultimamente Phantom è velocissima. Si fa per dire. Eccola qua. Sì, ho 5 Die e ho anche già la prova del pull che ho fatto. Comunque sia. Quindi vado ad esempio a swapare un Phantom e vado a fare direttamente qua swap. Ora, con questi Die possiamo andarli quindi a depositare direttamente su Curve, perché come abbiamo detto possiamo depositare qualsiasi asset in qualsiasi quantità desideriamo. Ah, prima di continuare, voglio specificare una cosa. In questo momento la farm paga il 64%, ed è effettivamente da forse una decina di giorni, che la sto tenendo monitorata, e che in realtà prima la pagava anche di più. È partito dall'85, se non sbaglio. Quindi sta tenendo abbastanza bene. Ovviamente teniamo in considerazione, con le fiche andremo a pagare, che comunque sono poche, ma se parla comunque penso in totale di forse 4-5 dollari per andare a depositare e fare tutti gli swap, più o meno, ovviamente dipende dal punto di partenza. Teniamo in considerazione che questo API non è che è destinato a durare effettivamente per un anno. Cioè, se noi avessimo un API che paga sul dollaro del 64% per un anno, capiamo bene che tra un anno metà della popolazione mondiale diventerebbe ricca, perché ci metterebbe casa e tutto quello che ha. Quindi, mi raccomando, teniamo in considerazione che queste sono pool che sono abbastanza destinati a calare. Motivo per cui, su questa pool, io mi c'espongo poco, perché ci sono comunque due rischi sostanziali, che abbiamo detto il primo è il rischio de PEG, quindi il rischio che ci sta riguardo a CUSD, che potrebbe perdere il PEG con il dollaro. Infatti, CUSD, comunque sia, non è USDT, non è USDC e non è neanche DAI. È una criptovaluta che è una stablecoin che per il momento, diciamo, mi dà un po' di sicurezza. Però, come ho detto, mi dà un po' di sicurezza. Io, per esempio, ci andrò a mettere il 5% della mia liquidità. Quindi non è che vado a fare all-in perché paga il 64%. Io, in questo momento di mercato, sto in modalità SAFE. Lo so che si parla di DAO, di criptovalute che danno il 12.000%, insomma, si parla di questo, ma secondo me si stanno vendendo sogni. Cioè, non esiste un rendimento altissimo se non correndo un rischio altissimo. Per me, come investitore, una piccolissima parte del portafoglio può andare su quel tipo di progetti, ma, lo dico onestamente, è più per divertimento, è più per sognare. È come la persona che va al bar a giocare la lotteria, che non sono io, infatti non lo faccio neanche qui, se non con una piccolissima parte del portafoglio. Io lo faccio per divertimento. È come il fantacalcio. Non è che faccio il fantacalcio per vincere. Anche perché non ho mai vinto, sono una pippa. Lo faccio per divertimento. Diciamo stessa cosa qui. Non entriamo in progetti ad alto rendimento. Non sto parlando di questo, anzi, questo è il 64%, che è tantissimo. Però, ultimamente, mi sto riferendo ad altro. Mi sto riferendo a progetti molto degen. Non ci andiamo convinti di fare soldi. Cioè, non guardiamo il numerino 4000% e non ci facciamo scattare quelle campanelline nel cervello e dicono Oddio, oddio, posso diventare ricco. Non è così. Non funziona così e non funzionerà mai così. I soldi facili non esisteranno. Perché non è che uno ti paga un rendimento così perché vuole darti l'8000-12000%. Quei soldi che qualcuno ti sta dando sono i soldi di qualcun altro. Perché, fino a prova contraria, insomma, non esiste una stampante monetaria che può creare veramente ricchezza. Neanche la stampante monetaria reale della BCE crea veramente ricchezza. Anzi, la distrugge. Quindi, mi raccomando, andiamoci con i piedi di piombo. Secondo me, poi adesso ricontinuiamo il tutorial, è molto preferibile fare un 300-400% su Ethereum oppure su Bitcoin che un potenziale 20.000% su, che ne so, su qualsiasi altra criptovaluta che sta andando in questo momento. Perché? Perché ovviamente a livello numerico no, è meglio il 20.000% che il 400%. Però, il 400% magari lo fai su un 60% di portafoglio. Perché comunque su Bitcoin e su Ethereum, a livello di portafoglio cripto, logicamente, uno ci si può anche esporre molto. Stiamo parlando veramente delle top. Invece, su, mi viene in mente Wonderland, insomma, qualsiasi altra DAO, qualsiasi altra criptovaluta ad altissimo rischio, uno, razionalmente, non ci si può esporre più del, non so, per me mi verrebbe da dire un per cento. Però, ovviamente, questo è soggettivo, però il concetto è che, insomma, non ci si può esporre tantissimo a quei progetti. E quindi fare il 20.000% sullo 0,5% del portafoglio, non so, secondo me è meglio fare meglio su asset più sicuri. Fatto questo pippone che non c'entra a niente quel video. Vabbè, andiamo a vedere quindi. Abbiamo DAI. Andiamo su Curve, depositiamo direttamente i DAI. Ecco qua, quindi andiamo su... Vabbè, qua ci siamo arrivati direttamente passando, abbiamo detto qui, dal link. Andiamo su Curve, andiamo su DAI, qui in alto, deposit, e qui ci dovrebbe, almeno in teoria, segnare i DAI che abbiamo su Metamask. Ora ci sta mettendo un po', penso che sia la chain di Phantom che stia avendo qualche problema, perché sta andando veramente lenta. Quindi ci mettiamo 8 DAI, 71. Quando depositiamo su Curve, controlliamo sempre lo slippage qua in basso. Quando è verde, tipo in questo momento è tanto verde, vuol dire che Curve ci paga uno slippage a noi, positivo, dello 0,21. Quindi solo nel depositare stiamo andando a prendere lo 0,21%. Questa cosa è ottima, perché innanzitutto solitamente lo slippage è negativo. Se è positivo, guadagniamo due volte. Non solo non lo paghiamo, ma lo andiamo anche ad incassare noi. Perché avviene questa cosa? Perché in questa pool, evidentemente in questo momento, i DAI, questi qua, quindi quelli che noi andiamo a depositare, sono meno di quello che dovrebbero essere. E quindi Curve cerca di incentivare a depositare DAI. Insomma, cercano di andare a far fare un arbitraggio direttamente agli utenti. Quindi andiamo a depositare DAI, clicchiamo su Deposit, Curve ci chiede due conferme. Quindi dopo facciamo la prima, noi andiamo direttamente di là e poi ci impanichiamo perché non troviamo l'LP token, non troviamo le cose. Ricordiamoci sempre che su Curve ci sono sempre due depositi. Ora vi salterò questi minuti di attesa perché quanto pare Phantom sta andando lentissima e quindi penso mi ruberà 10 minuti. Eccoci qua, per voi il tempo è volato, per me no. Quindi abbiamo depositato i DAI su Curve. In questo momento Curve ci ha dato un LP token, quindi una ricevuta del nostro deposito. L'LP token lo possiamo vedere direttamente su Metamask. L'unica cosa è che come sempre, se voi non lo aggiungete alla lista dei token, voi non lo potete vedere. Sappiate che per il momento vederlo è inutile perché non ha nessuno scopo. Nel caso in cui voleste comunque vederlo, basta andare direttamente qui su Impostazioni, FTM Scam. Sì, ciao Scam. Scan. Scam è truffa, non è questo il caso. E direttamente qui posso vedere tutti i token associati al nostro indirizzo. Magari ve lo scrivo anche in descrizione per comodità, anche se tendenzialmente vi direi non lo prendete. Perché potrei anche essere io un truffatore e mettervi un contratto Scam. Quindi non vi fidate mai di nessuno. Né di YouTuber, né di influencer, né di nessuno. Comunque io ve lo lascio per comodità. Come si inserisce? Andiamo su Import Token, clicchiamo in colla. Il token è stato già aggiunto, perché giustamente l'ho già messo. Voi qui metterete Add Custom Token e basta. Una volta abbiamo l'LP token, il gioco è praticamente finito. Torniamo su Reaper.farm, andiamo sulla pool di nostro interesse. E come vediamo adesso gli LP token sono aumentati. Perché ci sono anche quelli che ho appena creato, andando a depositare su Curve. Ora, fatto questo, clicchiamo su Max, oppure insomma su quello che vogliamo mettere. Ovviamente se abbiamo fatto tutto questo per fare questo, è conveniente andarceli a mettere tutti quanti. Lo andiamo ad approvare, ed una volta approvato e poi depositato, stiamo farmando a quella percentuale. Quindi sostanzialmente è finito qua il tutorial. Voglio solamente fare una piccola aggiunta. Infatti è possibile attuare questa strategia in maniera più complessa e più redditizia. Però vedremo, come sempre, non esistono pasti gratis. Quindi per avere più rendimento bisognerà innanzitutto aumentare il rischio. Anche se, secondo me, in questo caso il rischio non verrà aumentato di tanto. Il problema è che ci sta proprio una componente difficile da attuare, ovvero manca della liquidità. Infatti, se noi andassimo su Yen Finance, che è sostanzialmente una piattaforma che attua delle strategie per avere dei rendimenti maggiori sugli asset, che cosa potremmo andare a fare? In linea teorica, vediamola almeno in linea teorica. Noi ad esempio vediamo che Yen Finance, sul deposito di DAI, ci paga il 24,05% all'anno. E già qui dici, ottimo. Ma la cosa ancora più interessante qual è? Noi nell'andare a depositare DAI, che cosa otteniamo? Se andiamo a vedere qui, ce lo spiega anche come fa a ottenere questo rendimento. Nell'andare a depositare DAI, Yen Finance ci dà come ricevuta YVDAI, che per la cronaca sarebbe, ve lo faccio vedere, sarebbe questo qua, YVDAI. Quindi che cos'è questo token? Questo token è un interest bearing token, e quindi è un token che è ancorato al dollaro, perché è come collaterale a DAI, lo abbiamo infatti ottenuto così, ma la cosa ottimale è che praticamente matura quell'interesse. Infatti noi nell'andare a depositare su Yen Finance DAI, otterremo questo token, che sta guadagnando il 23% all'anno. La strategia ottima quindi qual è? È andare ad esempio su Creditum, ovvero su Revenant Finance, andare a depositare YVDAI, che è un interest bearing token e che quindi nel frattempo sta guadagnando a sua volta il 23%, andando ad utilizzare questo come collaterale, potremo andare noi stessi a mintare, noi stessi a creare e a prendere in prestito, quindi, CUSD. CUSD è la stable coin che abbiamo visto ad inizio video ed è quindi quella che ci occorre, e quindi che cosa vuol dire? Che andando ad utilizzare un interest bearing token ancorato al dollaro, stiamo andando anche a prendere a prestito fino al... Scusate, sono nella sezione sbagliata. Stiamo andando a prendere in prestito, eccolo qua, fino al 95% di CUSD. Quindi con 100 dollari di YVDAI, che stanno guadagnando anche il 23%, ricordiamoci varia, ma comunque sia, in questo momento stanno guadagnando il 23%, andiamo a prendere a prestito il 95% di CUSD, ovvero 95 dollari, con questi CUSD facciamo lo stesso identico procedimento. Quindi andiamo a depositarli qui su Curve, andiamo a prendere l'LP token e lo andiamo a depositare su Reaper Farm. In questo modo quindi che cosa vuol dire? Che stiamo andando a guadagnare due volte, perché stiamo andando a guadagnare su YVDAI il 23%, abbiamo preso il 95% che sta andando a farmare al 65%. Quindi questa è la strategia un po' più complessa. Con questo ho finito, spero che il video ti sia piaciuto, spero che tu abbia capito bene i rischi, ovvero rischio piattaforma, che scusate, non l'ho detto, comunque sia una piattaforma auditata, anche se comunque sia è piccola ancora, ha 300 milioni di TVL, quindi non ci andate all-in, perché comunque sia non è sicura al 100%. Non sto parlando di questa, sto parlando di Reaper Farm. E niente, un saluto e alla prossima! E niente, un saluto e alla prossima! E niente, un saluto e alla prossima! E niente, un saluto e alla prossima!